Alla fine Maggioriano II decise di evitare di imporsi su Teodorico. Disse chiaramente che nessuna armata romana avrebbe marciato contro i Franchi, ma lasciò libero Teodorico e gli Ostrogoti di fare quello che volevano. Teodorico unì quindi le sue forze a quelle dei Visigoti e insieme marciarono contro le forze di Clodoveo. Il risultato fu che nei pressi della cittadina di Poitiers i due eserciti si affrontarono. Le perdite furono enormi da entrambe le parti, ma alla fine la vittoria arrise a Visigoti e Ostrogoti, che scacciarono i Franchi verso nord infliggendo una durissima sconfitta a Clodoveo. Clodoveo, ferito in battaglia, visse ancora un anno. Riuscì a stipulare un accordo di pace con i Visigoti, che sostanzialmente lasciava le cose invariate, se non piccole conquiste, anche perché i Visigoti avevano perso troppi uomini e temevano di non essere in grado di mantenere un territorio così ampio. Le poche conquiste Visigote si ribaltarono anche sull'impero romano d'Occidente, che riuscì a riespandersi leggermente verso l'Occidente, inglobando parte della settimana. Il regno dei Franchi, alla morte di Clodoveo, verrà spartito fra i suoi tre figli, ma sarà molto più debole rispetto alla nostra timeline. Teodorico rientrerà in Italia, lo farà da vincitore, ma lo farà con un esercito molto più indebolito. Gli Ostrogoti sono sempre più deboli, numericamente e come forze, mentre negli anni successivi lentamente l'impero romano d'Occidente, nella sua componente latina, torna a crescere. Aumentano le truppe, aumenta la ricchezza commerciale, aumenta la ricchezza del territorio e lentamente Maggioriano si riavvicina al suo contraltare. Nel 516 succede una cosa che aumenta ulteriormente il potere di Maggioriano. Il figlio di Gundobado, re dei Burgundi, infatti decide di convertirsi al credo niceano. È un duro colpo se ci pensate per gli Ostrogoti, perché perdono praticamente qualunque possibile alleato in uno scontro con i Romani. Certo, hanno i Visigoti, ma chi può dire che i Visigoti li appoggeranno? Nel 520 le cose iniziano a cambiare. Fino a quel momento, secondo l'editto di Maggioriano, il rispetto reciproco tra Ariani e Cattolici era stato abbastanza mantenuto. Nel 520 però Teodorico, che oramai vede minacce da ogni parte, inizia a perseguitare coloro che seguono il credo niceano nei territori che controlla più strettamente, cioè sostanzialmente nel nord Italia. Si parla di massacri, si parla di requisizioni, si parla di perdita di potere per tutti coloro che non solo erano niceani, ma erano anche in gran parte latini. Maggioriano però, ad un certo punto, crede di averne veramente basta. Appoggiato dall'imperatore d'Oriente, che era fermamente contro il credo di Ario, unisce le sue truppe e marcia verso nord. Gli Ostrogoti lotteranno per farsi strada. Dopo essere stati sconfitti vicino Pavia, abbandoneranno il nord Italia e fuggiranno verso la Provenza. Da qui passeranno nei territori dei Visigoti e si installeranno nell'attuale Aquitania. Maggioriano II può essere considerato, dopo tanto tempo, il primo imperatore che regnò su Roma senza avere un padrino barbaro. Però nel 527 d.C. muore Maggioriano II. E quello che avrebbe voluto e che fosse il suo erede, chiamato Teodosio, era un bambino di nove anni. Anche Anastasio muore. Sempre nel 527 e in Oriente, sul trono che era stato di Costantino il Grande, arriva Giustiniano, due nuovi imperatori, uno già potente in Oriente, uno che è solo un bambino. La situazione potrebbe diventare esplosiva. Perché proprio alla morte di Maggioriano, quando ormai è chiaro che l'impero romano d'Occidente è vicino a un periodo di torbidi o quantomeno di indebolimento, da ovest arriva un'avanzata. Vedette, situate sul confine con la Provenza, portano a Roma la notizia che i Visigoti stanno attaccando. Calano, insieme a ciò che resta dell'esercito Strogoto, sulla Provenza. Sono pronti a conquistarla e da lì marciare sull'Italia. Grazie.